Scusate, ma c'è una sveglia lì. Oh, ma guarda che deve stare a un metro di distanza, eh. Siamo qui al porto di Lampedusa, abbiamo bloccato, abbiamo bloccato, abbiamo bloccato tutto, non vogliamo più che parta nessuno, ne non entra nessuno ed esce nessuno. Siamo qui, siamo stanchi e stiamo facendo questa protesta perché non ne possiamo... siamo estremi, siamo stanchissimi. Abbiamo detto basta, abbiamo bloccato, abbiamo chiuso il porto, c'è anche la Maraventana, ci sono le forze dell'ordine. Abbiamo messo una corda attaccata qui, allacciata, che finisce là sotto. Vi faccio vedere che noi siamo, no stanchi, stanchissimi. Stiamo protestando perché non ne vogliamo più sapere niente. Basta. Adesso Lampedusa dice basta, perché ce ne sono 190 qui, 100 là già li hanno portati, 120 stanno per arrivare, altri 800 sono dentro il centro di accoglienza, quindi qua si sta... non si sta più capendo niente, qua Lampedusa. Quindi noi stiamo incominciando a bloccare tutto. Il porto è bloccato, le volante non possono uscire, non possono entrare. Più di questo non possiamo fare. Io non mi spavento di niente. Vado avanti, anche solo. Va bene?